La giacca l'ho sacrificata sulle dieci ore di volo di ritorno a Washington perché mi sono fatto una 36 ore però penso di aver aperto alcuni spazi per le imprese italiane negli Stati Uniti quindi penso che mi perdonerete il fatto di essere in maniche di camicia però ci tenevo a essere qua. Per alcune riflessioni innanzitutto grazie al Presidente perché qua mi sento a casa a differenza di altre assemblee non farò mai nomi e cognomi neanche sotto tortura dove parla qualcuno che incassando soldi dello Stato spiega allo Stato come non deve aiutare gli altri pontificando dall'alto del suo scranno ed è seccante perché qua c'è il lavoro qua c'è la fatica non ripeto quello che ho sentito dall'amico Luigi con cui sono contento di aver accettato la scommessa del governo l'anno scorso perché altrimenti ci sarebbe stato l'ennesimo governo tecnico telecomandato poi siamo forze diverse evidentemente che cercano di andare avanti con un obiettivo comune io ho due figli che vivono in questo paese che spero che crescano e lavorino in questo paese di 6 e di 16 anni è chiaro che io insegno ai miei figli che prima di redistribuire qualcosa che non c'è devo creare reddito devo creare ricchezza prima di ipotizzare un salario minimo devo permettere alle imprese che quel salario lo pagano levando le tasse a queste imprese di pagare un salario minimo perché se non ho chi paga il salario evidentemente è difficile ipotizzare un salario minimo io vengo a scuola alcuni passaggi nella legislazione di quest'anno li abbiamo raccolti da voi penso alla deducibilità dell'Imu sui cappannoni li abbiamo trovati al 20 li abbiamo portati al 40 e nel decreto crescita c'è un passaggio per arrivare al 50 al 60 e al 70 fino al 2021 abbiamo cercato di mettere toppe a deliri degli altri abbiamo ereditato un provvedimento di legge che teoricamente avrebbe dovuto entrare in vigore quest'anno entrando nelle vostre aziende che prevedeva io non so chi l'avesse potuto immaginare i revisori dei conti e il collegio sindacale anche per aziende di 10 dipendenti ma bisogna essere poco normali per mettere un'ulteriore incombenza economica e fiscale per le aziende che fatturano 2 milioni e hanno 10 dipendenti vuol dire che non conosci evidentemente il mondo del lavoro non voglio sapere chi le ha risposto così ma una mezza idea di qualche ministro dello sviluppo economico che se ne fregava dalle leggi e veniva qua dicendo pure non mi interessa ce l'ho però non guardo al passato guardo al futuro orgoglioso di un paese come l'Italia perché quando stai 36 ore nella più grande democrazia americana e ti chiedono come investire in Italia come intervenire in Italia come possono aiutare in Italia ti rendi conto che fai parte di un grande paese quindi chiederò anche a voi nelle prossime settimane di sederci intorno a un tavolo per scriverla insieme la manovra economica perché penso che dobbiamo prenderci tutti la responsabilità di quello che va bene e di quello che va male alcune idee di fondo ce l'ho l'ho ripetuto ai giornalisti all'ingresso che poi ovviamente hanno le loro domande standard la vera emergenza di questo paese è tagliare le tasse a chi produce lavoro a chi produce ricchezza non tutto per tutti subito evidentemente abbiamo quattro anni di percorso da ipotizzare insieme però vorrei disegnarli insieme ai cosiddetti corpi intermedi che qualcuno in passato pensava di superare ergendosi a re sole scriviamo insieme questo percorso però io chiedo a me chiedo anche a voi coraggio e visione non mi accontento l'Italia non può crescere dello zero virgola dal 2008 ad oggi io mi sono studiato i numeri perché per me la politica è passione è coraggio è entusiasmo ma sono numeri è fatturato io faccio il ministro dell'interno mi pagate lo stipendio per garantire sicurezza a questo paese e per questo io mi alzo la mattina e vorrei semplicemente applicare anche all'economia quello che molto umilmente in un anno penso di aver dimostrato di aver applicato coi fatti e non con le parole all'antimafia all'antidroga all'antiracket con mille e uno problemi perché pensate voi a proposito di burocrazia in questo momento c'è il mio capo di gabinetto il ministero dell'interno con l'avvocatura dello Stato che mi ha detto le 12 e mezza quindi sì 12 e 20 è al Tar del Lazio perché c'è una nave di una ONG che in mezzo al Mediterraneo ha fatto un ricorso di 40 pagine al Tar del Lazio chiedendo lo sbarco ora ovviamente non c'entra con i problemi dell'artigianato però vi dà l'idea di un paese dove una ONG olandese su una nave tedesca che ha soccorso 40 immigrati in mezzo al Mediterraneo ha tempo e voglia di scrivere 40 pagine di ricorso al Tar del Lazio per sospendere il decreto sicurezza riflessione bisogna anche portare a compimento finalmente una riforma della giustizia che renda tempi certi e evidentemente consegni al mondo dell'impresa un paese sano un paese sano perché al di là e col barcone me la smazzo io e penso di averlo dimostrato però non può esserci un giudice che si alza la mattina sequestrando un'azienda e lasciando a casa migliaia di lavoratori non possono esserci norme fiscali retroattive o norme giuridiche retroattive che vanno dal primo gennaio a intervenire su quello che è stato stabilito dal governo precedente non esiste ma non lo dico perché in magistratura in questo momento c'è qualche problemino e siamo l'unico paese al mondo dove ci sono magistrati che intercettano e arrestano altri magistrati lo dico perché avere tempi certi della giustizia penso che sia un fondamento per un paese che vuole attrarre investitori burocrazia tutti i governi penso che si siano susseguiti noi abbiamo a che fare con strutture burocratiche che si autorigenerano e si alzano la mattina dicendo questi passano i governi passano i ministri passano i presidenti confartigianato passano noi restiamo e io ringrazio per l'immenso sforzo che sta facendo il ministro della pubblica amministrazione Giulia Buongiorno per portare il merito anche nella pubblica amministrazione è un principio sano qualcuno si è scandalizzato perché abbia messo anche i rilevamenti agli ingressi e le uscite e addirittura le impronte digitali ma se l'assenteismo non può essere consentito nel privato perché vai a lavorare anche con 39 di febbre non è che il posto pubblico venga tramandato per generazioni se sbagli paghi anche se sei un dipendente pubblico se sbagli paghi se sei bravo vieni premiato se sbagli paghi ma per rispetto dei tanti dipendenti pubblici che fanno il loro lavoro l'inversione dell'onere della prova anche su questo presenteremo un disegno di legge che porterà a qualche discussione ma siamo uno dei pochi paesi incivili al mondo dove siamo tutti presunti colpevoli e se lo Stato decide di iniziare a indagare fiscalmente su qualcuno di voi o qualcuno di noi siamo noi che dobbiamo perdere giornate di lavoro per dimostrare la nostra innocenza non esiste né in cielo né in terra evidentemente va provata la colpevolezza non va dimostrata l'innocenza in un paese normale noi abbiamo alzato a proposito di piccole e medie imprese di artigianato la soglia per l'affidamento diretto dei lavori pubblici a 150.000 euro perché altrimenti ovviamente finiva tutto ai grandi e ai piccoli rimanevano liberi apriti cielo l'avrete visto è l'autority qui è l'autority là e si apre la stada alla mafia alla corruzione ai malfattori io penso che i delinquenti si infilino laddove c'è più burocrazia e più complicazione se devo andare in un ufficio a chiedere un permesso è difficile che qualcuno mi chieda dei soldi se la normativa mi impone di girare 20 uffici per chiedere 20 permessi per fare una singola opera è chiaro ed evidente che è più facile che qualcuno mi chieda la mazzetta quindi io voglio lavorare per un paese semplice e se qualcuno si oppone me ne faccio una ragione vado avanti lo stesso perché sono proprio due visioni della vita diverse secondo me la proprietà privata è sacra e gli italiani sono presunti innocenti fino a prova contraria i sindaci sono presunti innocenti gli artigiani sono presunti innocenti a proposito di evasione si è visto che sta cambiando qualcosa perché l'ultima mega operazione è di maggio di quest'anno è stata portata a definizione a maggio di quest'anno dell'agenzia delle entrate un miliardo e trecento milioni di euro dall'agenzia dalla società del lusso francese Caring Gucci che probabilmente occultava in cassa in Italia grazie a residenze all'estero e questa è la lotta all'evasione fiscale un miliardo e tre alla multinazionale del lusso non lo scontrino da due euro al parrucchiere al panettiere o c'è modo è modo e io rimango convinto però che l'unico modo per combattere l'evasione fiscale sia rendere conveniente e possibile pagare le tasse perché non è bello pagare le tasse sfido qualcuno lo disse in passato sfido chiunque a dirmi che bello pagare le tasse non vedo l'ora di svolgere il mio ruolo e di adempiere al mio dovere civico e quindi spero di pagare no deve essere possibile e uso anche una parolaccia conveniente ovviamente moralmente siamo tutti io sono dipendente pubblico quindi lo faccio però deve essere possibile e se la tassazione totale per un'impresa artigiana media fra indirette dirette locali e nazionali supera il 60% hai un bel da dire col ditino alzato devi pagare tutto fino all'ultimo euro il 60% è una tassazione immorale non è un livello di tassazione da paese civile il 60% non è un livello di tassazione sostenibile sentivo Luigi che parlava di galera ma sì fammi portare al 20% o al 15% la tassazione statale allora sì se io ti chiedo solo il 15% e continui a fregarmi ti metto in galera e butto via la chiave noi l'abbiamo provato quest'anno è già in vigore quest'anno sulle fatturazioni fino a 65.000 euro un rapporto semplificato e guarda caso hanno aperto 100.000 partite IVA nuove nel primo trimestre di quest'anno godendo di questa tassazione agevolata l'obiettivo è di portarle già alla prossima manovra economica al tetto per le piccole imprese gli artigiani le partite IVA i commercianti a 100.000 euro quindi andare a comprendere un'altra fascia di paese e poi senza moltiplicare panni e pesci io so che c'è in discussione la lettera con Bruxelles a proposito il mio impegno è che il commissario europeo che andrà a rappresentare 60 milioni di italiani andrà a occuparsi non di filosofia non di agenzie e viaggi ma di lavoro di impresa e di artigianato nella prossima commissione europea quindi andrà a occuparsi di vita vera e se è qua fra noi magari tornerà l'anno prossimo coi compiti a casa svolti e chiederò a questo commissario da azionista di questo governo che ovviamente sarà un membro della commissione europea ma si dovrà ricordare a differenza di tanti altri che è indicato dal governo italiano per difendere l'interesse delle aziende e dei lavoratori italiani non è che scenda dal cielo per nomina divina è lì a rappresentare l'Italia non è una brutta parola gli altri lo fanno gli altri commissari europei difendono gli interessi economici e commerciali dei polacchi dei tedeschi dei francesi degli ungheresi non si capisce perché gli italiani quando vanno a Bruxelles si dimenticano spesso volentieri di essere italiani siano l'Europa un bellissimo sogno io condivido le parole del Presidente a me piace molto la parola comunità comunità ti dà il senso di un obiettivo di una strada comune di un percorso di sofferenza e di ambizioni molto di più dell'unione che mi fa venire in mente l'unione bancaria l'unione economica e monetaria qua non voglio far la figura perché a me stanno sulle scatole quelli che ti dico ah l'avevo detto però gli unici che votarono contro la direttiva sul bail-in che mette a rischio i risparmiatori e non i banchieri che truffano e quelli che da anni discutano ma fermano in Parlamento la riforma di un sistema bancario fatto o per ignoranza o per malafede perché si è distrutto quasi completamente perché gli ultimi pezzi li stiamo cercando di salvare con le unghie e con i denti quel sistema bancario creditizio che non sono le grandi banche ma sono le banche popolari di territorio e le banche di credito cooperativo che sono quelle in cui l'artigiano entrava e c'era un rapporto fiduciario al di là degli algoritmi del computer noi stiamo lavorando per tornare a quello a un credito che al di là dei numeri imposti a Basilea o a Francoforte possa anche comprendere la fiducia e la qualità di chi viene a credere e a chiedere l'erogazione di un credito e su questo è fondamentale anche il ruolo della scuola e stiamo lavorando con il ministro Bussetti perché tornare a investire anche negli istituti tecnici e negli istituti professionali è fondamentale noi stiamo scontando decenni decenni e lo dico da genitore dove se non avevi il figlio o la figlia che andava al liceo eri uno sfigato eri uno di serie B e serie C e se poi non si faceva qualche anno di scienze politiche o giurisprudenza peggio che andare di notte si sono inventati l'alternanza scuola-lavoro stiamo mettendo mano all'alternanza scuola-lavoro perché secondo me è un principio sacrosanto qualcuno a sinistra protestava perché vergogna mettere in contatto gli studenti la libertà del sapere col mondo del lavoro è una bestemmia questi signori vivono su Marte perché se non metti in contatto il mondo della scuola col mondo del lavoro crei un paese di disoccupati e di mantenuti a vita ovviamente occorre un'alternanza scuola-lavoro vera perché in alcuni istituti dovevano trovare come riempire l'ora trovando aziende inesistenti per fatturare ore inesistenti come sempre accade in Italia però il principio è assolutamente sano non la faccio lunga anche perché il fuso inizia a farsi sentire e devo tornare al Ministero dell'Interno a capire se il Tar del Lazio mi infoni di far arrivare Barchini o Barconi però vi non abbiate dubbi che ho ben chiaro che cosa fare possono processarmi anche sei volte ma non cambio idea ma non cambio idea da questo punto di vista chiudo con un altro impegno era nel nostro programma lavoreremo per portare avanti quello della pace tra il fisco e il contribuente la pace fiscale noi col saldo estralcio abbiamo restituito vita, sorriso e dignità a 300.000 lavoratori molti dei quali piccoli molti dei quali artigiani che ci avevano provato a cui era andata male ed erano ostaggio di quella cartella non da 30 milioni da 40.000 euro da troppi anni che con more, interessi contro interessi sanzioni li aveva trasformati in fantasmi aveva tolto loro la dignità perché senza lavoro non c'è dignità e l'obiettivo è di chiudere questa guerra sotterranea perché lo Stato ha bisogno di andare a recuperare i miliardi di quelli che lavorano in Italia assumono in Italia fatturano e vendono in Italia e poi vanno a pagare in paradisi fiscali attenzione l'Unione Europea se tale deve essere non può ammettere che ci siano paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea che fanno concorrenza sleale fiscale all'Italia che è il secondo paese manufatturiero di questo continente perché io sono convinto che l'impresa italiana a parità di condizioni non abbia uguali non abbia non abbia rivali abbiamo superato nelle esportazioni di vino passando a un altro settore la Francia negli Stati Uniti e quindi nazionalisticamente sono assolutamente contento ieri ho chiesto al vicepresidente americano con cui abbiamo condivisione di obiettivi e di visione futura di tenere in considerazione che l'economia italiana sta ripartendo i dati sull'export sono positivi nei primi tre mesi di quest'anno lo Stato è incassato non aumentando le aliquote più IVA più IRPEF quindi ci sono dei segnali di ripresa noi andremo in Europa da persone educate gentili pacate non per smontare niente ma io penso che ridurre il carico fiscale ridurre la pressione fiscale alle nostre imprese ai nostri artigiani ai nostri lavoratori non sia un diritto di questo governo ma sia un dovere di questo governo perché senza riduzione fiscale non c'è ripresa possibile mi piacerebbe anzi mi piacerà questo percorso che durerà quattro anni si rassegni qualcuno mi piacerà questo percorso però scriverlo insieme a voi maturarlo insieme a voi e quindi vi ringrazio per la fiducia che ci avete dato fino ad oggi ma soprattutto vi ringrazio per le idee gli stimoli le critiche le critiche se costruttive sono le benvenute a me non interessano al ministero quelli che mi dicono bravo ministro bravo ministro bravo ministro ce ne sono tanti a me interessa anche trovare in corridoio qualcuno che mi dice però io ministro quella roba lì l'avrei fatta in maniera diversa perché magari mi arrabbio sul momento perché sono un po' permaloso poi però ci penso e dico aveva ragione in quel caso lì ho sbagliato perché di esseri umani infallibili io non ne ho mai conosciuti sulla faccia di questa terra quindi spero che le vostre esperienze del lavoro quotidiano arricchiscano il lavoro di un governo e il lavoro di un ministro che umilmente cerca di fare il bene di 60 milioni di italiani grazie buona fortuna e buona vita e buona impresa a tutti voi grazie 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 grazie